Buonasera e benvenuti a Conto alla Rovescia. Questa sera una puntata dedicata interamente alla politica, lo faremo con i graditi ospiti che passo subito a presentarvi in questa prima parte, il Presidente della Regione Molise Donato Toma, grazie per essere qui con noi. Grazie a lei e buonasera ai teri spettatori. Il consigliere regionale, il segretario regionale dei popolari, Vincenzo Niro, mi stava scappando la parola assessore, ma lo è stato per tanti decenni, quindi era logico anche se avessi detto assessore. E poi l'assessore al Niro e buonasera all'assessore Inpectore Quintino Pallante, uno dei spadenti di spicco di Fratelli d'Italia in Molise. Buonasera e grazie dell'invito. Io in questa prima parte vorrei fare un po' un risoconto della vostra attività. Questa è la prossima aggiunta. Allora vorrei che facessimo un po', poi parleremo anche alla parte finale, un po' di qualche divagazione sulle prossime elezioni regionali. Però è importante anche capire che cosa è stato fatto in questi cinque anni. Qualche soddisfazione l'essere presa perché sin dall'inizio ha ottenuto dei risultati anche con una legge che riguardava proprio noi giornalisti, la legge sull'editoria, che è servita naturalmente a dare un po' di ossigeno alle tante testate giornalistiche che operano qui in Molise, Presidente Doma. Beh, voglio ricordarle che ci fu una interpretazione autentica presentata in Consiglio regionale di una legge già vigente sull'editoria, che però fu impugnata dal governo e mise in crisi tutta l'editoria regionale. E con una legge, con una revisione un po' più sistematica della normativa, noi abbiamo consentito all'editoria molisana di avere, non solo di avere i sussidi e gli aiuti, ma di averli con delle fiduzioni che avessero tempi certi. Quindi abrogammo quella interpretazione autentica presentata in Consiglio, il governo non impugnò la norma e quindi potremmo rivedere quella legge. Ecco, intanto un'altra nota positiva, lieta, è quella di essere entrata nel Bureo del Comitato delle Regioni. Sì, il primo Presidente di Regioni ad entrare nel Bureo del Comitato delle Regioni, diciamolo, traduciamo, è l'ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Fui eletto per acclamazione per la verità e insomma è stata una grande soddisfazione e ho portato gli interessi dei molisani anche al Comitato delle Regioni. E per finire poi alle Carresi, qui sono un po' i primi atti, perché la Carresi è anche una manifestazione che tocca il cuore ai cittadini del Basso Molise. Abbiamo reso eterne le Carresi, mi faccio utilizzare questa esagerazione, perché l'eternità non ha limiti. Abbiamo reso le Carresi praticabili con la legge numero 1 del 2019, ancora lo ricordo, e devo ringraziare la Giunta regionale del Molise, qui ci sono due autorevoli esponenti della mia Giunta. Portammo questa proposta di legge in Consiglio, fu approvata con i voti della maggioranza, pressoché, non dico all'unanimità, ci furono delle astensioni, ma il Consiglio era ben orientato verso le Carresi. Avemmo coraggio perché era in odore di impugnazione, infatti il governo non ha impugnato quella norma, gli animalisti fecero molto rumore, legittimamente, e la Corte Costituzionale validò la manifestazione definitivamente. E quindi le Carresi si svolgono in osseguio a quella testargiaggine che la Giunta e il Consiglio regionale del Molise hanno dimostrato in quell'occasione. Lei si è preso, Presidente, alcune critiche perché ha riconfermato i dirigenti, i personaggi di spicco della precedente gestione Frattura. Però io ritengo che questa scelta forse va anche motivata, non so se sbaglio facendo questa riflessione. Lei appena è entrato nel 2018 recuperò ben 18 milioni di euro di fondi europei, che altrimenti si sarebbero persi mille rivoli. E questo forse l'ha spinto a dare fiducia a queste persone che l'hanno aiutata a recuperare queste incende somma. Allora, io l'8 maggio 2018 mi sono seduto sulla poltrona del Presidente della Regione e ho trovato sulla scrivania una lettera scritta dal Ministro De Vincenti all'epoca in cui comunicava che la Regione Molise avrebbe perso 18 milioni di euro circa, in realtà erano quasi 19 milioni di euro. Io chiamai i dirigenti che erano in scadenza per la verità e chiesi se se la sentivano di fare uno sforzo elevato, ulteriore, per far sì che la spesa andasse certificata, come si dice tecnicamente, e quindi che recuperassimo questi circa 19 milioni di euro. Lo hanno fatto, lo hanno fatto con competenze e con dedizione, per cui alcuni di quei dirigenti della precedente amministrazione, devo dire in accordo anche con la Giunta regionale, sono stati meritevolmente riconfermati. Allora, Vincenzo Niro, credo che anche lei si sia preso delle belle soddisfazioni in questi quasi cinque anni, perché lei è consolato semplice da un mesetto, è così, mi sbaglio. Allora, partiamo da questo raggiungimento degli obiettivi delle libere Cipe 2022, tra cui c'è la quattro corsie, Temmoli-Sammittore, che è un po' uno dei suoi fiori all'occhiello. Bene, intanto buonasera di nuovo ai telespettatori, grazie per la domanda. Sì, qualche soddisfazione ce la siamo presa, perché vedere con cancellata un sogno molisano, che è partito dal 2000, lo ricordo, quando venne il Ministro con l'elicottero nel Molise per annunciare che avevano messo in piedi l'autostrada del Molise. Poi nel 2007, con la presenza del nostro regionale Ministro Di Pietro, si mandò avanti questa realizzazione, questa progettazione delle quattro corsie. viene data una dotazione finanziaria per l'avvio delle progettazioni, delle attività, ai fini poi di una eventuale successiva candidizzazione, laddove rispondeva a tutti i requisiti. stranamente nel 2014, ottobre del 2014, se non ricordo male, con il governo Renzi fu pubblicata una delibera, un decreto, dal quale si invitava la regione a confermare quella posta finanziaria stabilita per progettare l'autostrada del Molise, ma dando dei tempi. Oppure, laddove quei tempi venivano superati, andare verso la riprogrammazione di quelle somme. E difatti quelle somme furono riprogrammate in quel momento. e una parte andò anche alla realizzazione di 25 milioni, credo se non ricordo male, andarono anche alla realizzazione della cosiddetta metropolitana leggera da Matrice a Boiano. Quindi, con quella riprogrammazione delle somme, tutta la partita in capo autostrada del Molise e venne a cessare, tant'è vero che, credo, all'inizio del 2018 andò in liquidazione alla società autostrada del Molise. E chi non ci credeva più a quel periodo? E' chiaro che in quel momento per noi spariva, veniva automaticamente cancellato un sogno di tutti i molisani che per 14 anni avevano inseguito il sogno della quattro corsie. Io, ovviamente, insieme al Presidente e di indesa col Presidente abbiamo fatto anche un tentativo in un decreto mille proroghe con un emendamento firmato da 27 parlamentari della Lega e in quella circostanza, quando andò in esame, ricordo che era un martedì il giovedì che andò di quella settimana del 2019, se non ricordo male andò in esame in commissione bilancio la commissione lo dichiarò in, diciamo, in... In ammissibile. In no, non in ammissibile, in conferente. In conferente. In conferente, Presidente. Perché? Era in conferente perché si trattava del mille proroghe e quella non era una proroghe, come qualcuno continua a dire che c'era il decreto di concessione, l'autorizzazione di autostrade, eccetera, eccetera. Purtroppo quando cessa una... cade la programmazione nazionale con esso va a cadere tutto quello che ne è collegato quindi non c'era nessun decreto da poter recuperare abbiamo tentato in tutti i modi ma proprio per questa ragione diciamo in quella circostanza noi abbiamo nella dichiarazione di inconferenza fu scartato l'emendamento che prevedeva un fondo rotativo da 800 milioni. Cosa succede poi? Succede che nelle commissioni io ho sempre ribadito e lo dico giusto per memoria che l'articolo 131 della nostra Costituzione stabilisce noi come regione una delle 20 regioni e come una delle 20 regioni abbiamo gli stessi diritti di un'altra regione che ha una strada a scorrimento veloce. In quel momento noi abbiamo iniziato un'attività di pressing verso il governo e grazie alla parte al Ministro Carfagna che in quel momento è la struttura di missione diretta dal Professor Catalano al MIT con il Ministero, credo, De Micheli c'era il Ministro De Micheli in quella circostanza in quel momento noi siamo riusciti facendo capire le esigenze e la necessità per la nostra regione soprattutto perché in quel momento erano in discussione i lavori sul ponte del Liscione le criticità che non soltanto la regione morisse ma che tutto il mezzogiorno poteva avere se si fosse bloccato il viadotto del Liscione. Forse i telespettatori vorrebbero rivolgere questa domanda i tempi secondo lei sono lunghi? Ma guardi, intanto i tempi purtroppo non li dettiamo noi in quanto la progettazione è affidata per norma dello Stato all'ANAS Faccio una riflessione più per difetto che non per eccesso ma voglio precisare una cosa che diventa un atto acquisito perché nella delibera numero 1 del 15 febbraio del 2022 il dato politico di certezza è che la regione avrà la sua quattro corsiglie sta in questi termini perché c'è anche nel PFTE una dotazione finanziaria di 100 milioni per la progettazione e fare uno straccio di un primo lotto quando questo avverrà io sinceramente non posso non mi permetto di dirlo perché credo sia un azzardo che non è così anche perché l'agenda è ancora lunga per delineare anche un quadro però ogni tanto Damiani qualcuno dice che è stata finanziata la quattro corsiglie che ho letto ultimamente su un giornale che finalmente finanziata la quattro corsiglie il MIT fa sapere ma questo già lo sapevamo perché abbiamo contribuito tutti quanti come giustamente diceva l'assessore Niro a trattare questa partita Assessore Pallante lei è riuscito quasi con un colpo di bacchetta magica a fare quello che in tanti si aspettavano cioè di rimodulare o meglio di rinnovare il parco autobus che ora oggi è tra i più evoluti con un impegno di circa 70 milioni di euro da Pullman un po' diciamo uso questa parola un po' fadiscenti ora invece il Molise può contare di un parco autobus di tutto rispetto e ne verranno ancora altri in un breve futuro Ma intanto grazie per l'invito e voglio fare una piccola premessa è stata un'impresa difficile che naturalmente non raggiungo da solo ma grazie all'impegno dell'aggiunta del Presidente di tutto il servizio dei trasporti la regione Molise non acquistava autobus dal 2007 e quindi avevamo ovviamente un parco autobus assolutamente obsoleto che tra l'altro non rispondeva nemmeno a criteri di economicità di sicurezza dal punto di vista ecologico quindi il risultato è stato sorprendente perché passiamo oggi ad essere una delle regioni che c'è il parco auto tra le più evolute sono la più evolute tutti di euro 6D e quindi questo è un grossissimo passo in avanti da tutti quanti i profili ma si raggiunge anche un altro obiettivo importante finalmente gli autobus saranno di proprietà della regione Molise voi sapete che negli anni precedenti qualcuno aveva utilizzato la proprietà pubblica insomma un po' in maniera diciamo un po' sopra le righe questo non sarà più consentito perché appunto la proprietà della nostra regione ci dà la sicurezza tanto che all'occorrenza possono essere i dati come io spero al prossimo gestore ma che comunque il controllo sulla proprietà e vincola manovre che negli ultimi anni erano state un po' insomma improvvisate con la vendita di alcuni autobus e addirittura con l'acquisto non di autobus nuovi ma di autobus per quanto possibile ancora più come dire più obsoleti rispetto a quelli che si vendono quindi questo è un grosso risultato e che è una fase dei trasporti perché insieme con gli autobus abbiamo avviato l'acquisto dei primi tre treni ai quali seguiranno grazie anche a un altro intervento per altri 60 milioni 27 li abbiamo già impegnati che quindi ci sarà la possibilità di avere anche su ferro tutti i treni che sono ecologicamente avanzati perché grazie anche all'elettrificazione sarà possibile avere treni elettrici confortevoli sicuri insomma da questo punto di vista è un grosso passo in avanti senza considerare che questi autobus sono tecnologicamente dotati di strutture che consentono la rilevazione la geolocalizzazione i contapersone la possibilità che la bigliettazione sia sotto l'aggita della regione quindi anche su questo ci sarà maggiore controllo è molto importante questa innovazione tecnologica perché appunto mette la regione Molise al pari con le regioni più evolute sarà possibile addirittura quando andrà a regime i nuovi autobus sono tutti dotati di una strumentazione adeguata che in automatico l'utente avrà la tariffa più conveniente faccio l'esempio se io viaggiassi per 20 giorni consecutivamente pur non avendo fatto l'abbonamento alla fine la tariffa che vi viene applicata è automaticamente quella più conveniente quindi è un grande passo in avanti e sono veramente contento che questo possa essere stato fatto durante questa legislatura ecco vorrei collegare anche quest'altra domanda alla precedente perché sono stati acquistati anche tre nuovi treni per quanto riguarda il trasporto su ferro in un settore che produce perdite è inutile nasconderlo questi treni sono stati acquistati con risorse proprie con risorse della regione Molise beh intanto su questo ragionamento meriterebbe una puntata ad hoc la regione Molise fa uno sforzo enorme perché trovare le risorse all'interno del nostro bilancio è un'impresa ardua soprattutto perché ai noi il bilancio come sapete è compromesso da purtroppo situazioni che rinvengono da amministrazioni precedenti e quindi trovare risorse ed essere competitivi rispetto alle altre regioni che per esempio usufruiscono del contributo maggiore soprattutto sul trasporto su ferro hanno le linee che sono a carico dello Stato noi purtroppo abbiamo un collegamento che viene non considerato linea prioritaria nazionale per questo sarebbe interessante proseguire con lo sviluppo della nostra rete attraversando le tre regioni perché questo consentirebbe allo Stato di investire insieme con la nostra regione ciò nonostante poi meglio di me dirà anche il collega amico Niro assessore Niro il quale parlerà delle infrastrutture che sono deleghe di sua competenza che sono state deleghe di sua competenza quando sarà completata questa parte infrastrutturale noi potremo ambire a fare un up ground dal punto di vista dei collegamenti con Roma e questo ci consenerà di attingere ulteriormente ad altri fondi il collegamento via ferro è veramente risolutivo soprattutto in direzione della capitale voi sapete quanto sia difficile ognuno di noi che si lega a Roma dal Molise non solo per la parte autostradale ma l'accesso alla capitale in generale a prescindere dalla nostra dotazione infrastrutturale invece con i treni è possibile raggiungere il centro delle città ed è naturale pensare in un prossimo futuro che il collegamento su ferro sia quello vincente quindi infrastrutture acquisto di treni e innovazione tecnologica allora Presidente ci siamo una cosa però alla domanda di ciò che diceva giustamente l'assessore parlante come sa benissimo l'assessore Niro io lo chiamo sempre assessore perché ha svolto il ruolo con onore e con competenza lo devo dire e quindi lui ha operato una scelta politica e io la lascio la scelta però i rapporti ogni tanto mi segue su mia delega qualche fascicolo aperto importante su quale dobbiamo avere una certa continuità ecco volevo solo precisare un'altra cosa noi abbiamo la elettrificazione in corso di completamento perché altrimenti i treni dove li metti se i binari non sono quelli adatti e le gallerie non sono adeguate il ritardo sulla elettrificazione ormai se non sbaglio aiutatemi oltre un anno e saranno due gli anni tra poco è tutto mi dispiace dirlo ma lo devo dire da imputare a RFI la regione sta subendo questi ritardi e devo dire che noi ci siamo imposti per accelerare ancora di più la consegna della linea elettrificata ma insomma aspetteremo qualche altro mese ma ci riusciremo ecco lei è stato eletto nel 2018 di lì a qualche anno si è trovato con questo bubbone del covid che d'altronde in tutta Italia tutti i presidenti di regione si sono trovati in forti difficoltà proprio mentre stava entrando in vivo la programmazione del regionale del nuovo esecutivo da lei diretto una regione che è stata completamente bloccata dal covid molti hanno fatto finta di non capirlo ma sono situazioni che non si augurano neanche al peggior nemico per diversi mesi lei è stato nel suo ufficio a lavorare ha avuto contatti per due anni quasi per due anni ha avuto diciamo giorni e notte riunioni quotidiane da remoto noi ricordiamo abbiamo fatto le trasmissioni da remoto per molti molti tempi e con le unità di crisi ho precettato anche l'assessore parlante che all'epoca era sottosegretario e gli dissi devi stare a fianco a me perché renditi conto se io avessi una qualche defaianza anche fisica di quello che succede perché mi dovrei sostituire e l'assessore Nilo è stato impegnato con l'apporto il suo apporto per tutte le consulenze in materia di trasporti e le ordinanze che abbiamo dovuto fare in materia di trasporti la giunta non è esatta esente da lavoro tutto questo in un periodo in cui le cronache raccontavano anche una realtà talmente nuova ma anche drammatica che il peso di quei lunghi mesi poi ha segnato il corso di tutta la storia di tutta anche la registratura perché ha privato poi le regioni e mi corregga se sbaglio Presidente di disponibilità economica di tempo e di certezze però possiamo dire che la pandemia ha drenato risorse importanti ma la regione Molise eppure in questo contesto è stata la regione che ha speso di più in percentuale per ristorare le tante categorie che sono andate in apnea deliberammo se la memoria non mi inganna ad aprile 2020 ricordate amici quella famosa delibera con cui mettemmo sul piatto per aiutare le imprese 2020 quindi eravamo appena entrati in emergenza circa 50 milioni di euro riprogrammando il fondo sviluppo e coesione anzi riprogrammando insieme al fondo sviluppo e coesione in realtà riprogrammiamo il POR che ha un po' di fondo sviluppo e coesione e un po' di FESR e anticipammo anche l'ok della commissione europea fortunatamente ci diede l'ok e abbiamo sostenuto oltre 5 mila imprese se lei ricorda in una prima esperienza ci fu il click day che ebbe delle difficoltà poi variamo e troviamo un altro metodo per venire incontro alle imprese che andò bene per la verità devo dire che ancora oggi furono aiutate circa 5 mila oltre 5 mila imprese circa 50 milioni di euro in realtà furono molti di più perché poi avemmo anche contributi dallo Stato non solo i contributi europei e quelli del fondo sviluppo e coesione ma ci fu anche una rimessa dello Stato per le imprese e devo dire che tutt'oggi molto spesso vengo fermato in strada da imprenditori che mi dicono meno male che avete fatto quella misura ci avete dato una boccata d'ossigeno comunque è stato anche uno sforzo riconosciuto sia dalla commissione europea presidente ma sia anche dalle istituzioni nazionali che hanno preso atto delle capacità della regione molise di convertire efficacemente le risorse messe a disposizione dai programmi europei era drammatica la situazione per cui abbiamo dovuto prendere decisioni diciamo anche sul filo al limite però la commissione europea ci ha capito i dirigenti ci hanno seguito l'aggiunta è stata davvero molto compatta io ho sofferto in quel periodo l'isolamento nel senso che le unità di crisi oltre 100 unità di crisi le facevamo non avevamo Pasqua Natale Capodanno domenica e le facevamo in qualsiasi momento servissero tra l'altro il quotidiano della sanità riprese un modello che noi avevamo istituito il modello molise le spiego perché noi avevamo una sanità che era commissariata avevamo ci abbiamo ancora avevamo un commissario esterno che sulla sanità aveva molta voce in capitolo poi avevamo il presidente della regione che era delegato di protezione civile e che era anche titolato a fare ordinanze cosa che non poteva fare è commissare la sanità io che cosa ho fatto ho messo insieme protezione civile e sanità istituendo un'unità di crisi molto allargata e molto partecipata in questa maniera siamo riusciti ad andare di pari passo tra protezione civile e sanità c'è stato riconosciuto anche dalla conferenza dei presidenti devo dire che un ministro due ministri mi hanno chiamato in diverse occasioni uno è il ministro Boccia e l'altro fu il ministro Speranzi mi hanno detto ma il modello funziona questo modello Molise te lo devo riconoscere e questo ci ha fatto piacere Nero accennava parlanti alle infrastrutture lei aveva la delega proprio allora i lavori sulle infrastrutture regionali collegate naturalmente al PNRR sono andati a buon fine? Il PNRR è un capitolo un po' a parte perché sono attività in corso e su alcune infrastrutture tipo le infrastrutture sulla viabilità il PNRR non interviene se non all'interno delle ZES se non ricordo male ma per adeguamenti non rifà strade esatto il PNRR non interviene sul sistema della viabilità però interviene in altre circostanze invece per quanto riguarda le infrastrutture soprattutto quelle della viabilità io ricordo che quando mi sono ho ricevuto le delega fiduciare da parte del Presidente soprattutto sulla viabilità infrastrutture una dei primi fascicoli che abbiamo esaminato è stata proprio quella sulla viabilità perché nel programma che abbiamo condiviso e diciamo è approvato in consiglio regionale al primo posto c'era il sistema delle infrastrutture viarie e guardando quello che ricevevo in eredità purtroppo c'erano tante richieste ma non c'era mai stato fatto un piano del fabbisogno che provenisse dall'istituzione cioè dai comuni quello che era il fabbisogno le esigenze della nostra realtà ricordo che dal 2019 all'inizio del 2019 noi siamo partiti con una ricognizione con un sistema di ricognitivo su tutta la viabilità regionale sia che riguardava i comuni sia che riguardava le ex comunità montane sia che riguardava le due province proprio per i consorsi di bonifica anche se i consorsi di bonifica hanno un altro canale di intervento e proprio da questa ricognizione io ricordo se non ricordo male ci fu stabilimmo nell'avviso pubblico un principio il principio che ogni comune e ogni istituzione della nostra regione doveva segnalare almeno una priorità di infrastruttura viaria le sole priorità segnalate equivalevano a circa 86 milioni di interventi quindi lasciava presagire questa quantità di risorse finanziarie da impegnare che effettivamente il problema sulla viabilità stavamo ereditando un problema molto serio complessivamente tra priorità una e le altre priorità sulle quali poi in altri interventi tipo il piano Lez che è il piano della ministra Lezzi se vi ricordate veniva chiamato così ma fu un intervento per la regione di circa 10 milioni di euro nel frattempo che si trovavano le risorse per avviare questo piano di interventi sulla viabilità l'intervento complessivo di quel diciamo di quel piano equivaleva a 345 milioni quello di cui la nostra regione ha bisogno perché proviene dalle esigenze del territorio bene su questo soprattutto sul piano della viabilità sono state fatte tantissimi interventi io se volete li posso declinare uno a uno ma uno dei più importanti con un'anticipazione dei fondi di sviluppo e coesione 2021-2027 per circa 38 milioni di euro noi siamo riusciti a far partire le cui obbligazioni giuridicamente vincolante sono già state raggiunde al 31 dicembre del 2022 per cui sono in appalto di fatti sono iniziati i lavori abbiamo finanziato circa 62 comuni ne restano da finanziare la rimanenza fino a 85 milioni che sono circa 42-43 interventi ancora da finanziare su un piano che per la prima volta va a intervenire sulle esigenze della nostra comunità a questo però si aggiunge gli altri 33 se non ricordo male milioni di interventi che abbiamo fatto girare attraverso le province le due province per fare interventi anche soprattutto ed esclusivamente sulla viabilità oltre al recupero della delibera cipe la famosa la cipe 12 che era ormai saltata era andata al mit noi siamo riusciti a recuperarle anche quelle del sistema di viabilità abbiamo messo in cantiere altri 13 milioni di euro quindi se lei fa la somma su questo stiamo a oltre sommiamo anche 17 milioni di euro di protezione civile con cui abbiamo ripristinato delle interruzioni da frana esatto esatto quindi se sommiamo noi abbiamo messo sul territorio in questo periodo oltre 130 milioni di euro soltanto per la viabilità anche perché Damiani un assetato nel deserto che ha bisogno per ristorarsi di un litro d'acqua se glieni dai mezzo litro d'acqua e non si ristora perché ha bisogno di un litro d'acqua noi abbiamo fatto interventi importanti come dicevano gli assessori sul territorio chiaramente rimangono ancora aperte una serie di problemi altrettanto importanti che sono da risolvere molto lo si deve però anche al personale della regione molise se tutti questi impegni sono stati portati poi a compimento però il personale negli ultimi tempi è un po' in sofferenza perché è ridotto all'osso allora lei che è anche assessore al personale parlante dopo le incentivazioni all'esodo che ci sono state negli anni passati pensa anche di nuovo alle assunzioni anche qui purtroppo incide il punto di partenza perché raggiungere una vetta alta di per sé è un'impresa difficile però è rilevante se uno parte a quota 0 parte a quota meno 100 e allora il personale aveva subito nel corso degli anni un deparamento notevole perché c'era stato un incentivo che aveva favorito l'esodo e questo incentivo non solo aveva compromesso immediatamente l'operatività e il funzionamento ottimale della nostra regione ma ha impedito per un lungo periodo di assumere persone e questo dato insomma continua purtroppo a pesare nelle valutazioni nella capacità occupazionale che noi abbiamo quindi è stato difficile ripartire far ripartire la nostra capacità occupazionale abbiamo finalmente potuto concedere nei piani annuali almeno circa 20 unità all'anno che dovrebbero perché sono state messe a regime produrre finalmente quel ritardo almeno recuperare una parte del ritardo che si è accumulato negli anni quindi c'è assolutamente la volontà c'è stato il risultato che sono ripartiti concorsi proprio in questi giorni si stanno svolgendo alcuni concorsi che finalmente mettono una pietra tombale su alcune criticità mi riferisco in maniera particolare alla protezione civile sarà così per il centro per l'impiego dove arriveranno circa 35 unità nuove oltre 35 che potrebbero essere immediatamente pianificate in totale 70 unità che oltre a dare impulso al centro per l'impiego potranno finalmente riportare i livelli occupazionali della nostra regione in una condizione di poter rispondere a delle difficoltà che sono increscendo perché sapete tutti quando sia difficile rispondere per esempio ai processi di autorizzazione poco fa le facevo riferimento a PNNR se non ci sono le procedure amministrative gran parte dei fondi ma questo è un problema che non riguarda solo la nostra regione riguarda complessivamente tutta la nostra età tutte le nostre istituzioni se non ci sono gli uomini che fanno andare avanti con cederità il processo autorizzativo rischiamo di perdere finanziamento e quindi grazie a questa azione che ancora una volta voglio sottolineare non è un risultato personale ma è un'azione collegiale perché non si raggiungono i risultati se non si è d'accordo sia a livello di giunta quindi sia come indirizzo politico sia con i dirigenti che colgo l'occasione per ringraziare perché non c'è un solo dirigente della nostra regione che non abbia più di un compito quindi sono tutti con il doppio e il triplo compito assegnato quindi si sono caricati di un onere hotel per non parlare dei direttori generali i quali sono veramente operati quando gli assessori e lo stesso presidente si trova nelle riunioni nelle commissioni che si svolgono a Roma nella conferenza Stato-Regioni purtroppo è palpabile la differenza fra noi e le altre regioni le quali dispongono di dirigenti che noi invece dobbiamo dividere su tanti servizi quindi questo gap pesa poi negli anni sulla nostra capacità di impegno di spesa di richiedere fondi quindi è ancora più apprezzabile il lavoro che è stato svolto e che grazie a questa ripresa della nostra capacità occupazionale colmerà i ritardi che si sono accumulati ma in un breve futuro ci saranno cominceranno di nuovo le assunzioni come dicevo noi abbiamo già pianificato e sono in corso 70 assunzioni per il centro per l'impiego che serviranno prevalentemente per il centro per l'impiego ma serviranno anche a darci impulso negli altri settori altre 20 assunzioni che sono state ottenute anche grazie all'utilizzo delle gradatorie fatte dagli altri comuni oltre che alla mobilità oltre che la stabilizzazione attraverso il concorso del centro della protezione civile poi abbiamo ottenuto anche altri successi anche grazie a degli amendamenti che sono stati fatti per la verità a Roma che ci hanno consentito di stabilizzare altre persone quindi diciamo che la fase critica è stata superata e le prospettive sono più che rose Presidente Tom approfitto della sua presenza per rivolgere qualche domanda sulla sanità che è al centro di novità importanti che sono state più volte illustrate ma che finiscono poi nell'imbuto mediatico creato dal forte deficit di settore l'attuale impostazione prevede che l'aumento del budget per i pazienti morisani è un nuovo impulso anche sulla sanità pubblica non adeguatamente ristrutturata in passato pur nella consapevolezza dell'importanza assunta negli anni sul territorio dai privati convenzionati sia essi in Euroved Gemelli e tutti gli altri ma la decisione di porre un freno agli extra budget extra regionali è dettata io ritengo dalle normative nazionali non è che viene imposta dalle regioni per cui in Molise è la prima volta non so se sbaglio che è uno dei primi casi in Italia in cui i tetti di spesa vengono assunti proprio all'inizio di gennaio nei termini nei termini quindi l'equilibrio tra pubblico e privato secondo lei è solo uno degli aspetti che riguardano il settore regionale della sanità allora guardi devo dirle una cosa voglio che sia chiara anche ai telespettatori da presidente della regione io ho quando non ero commissario ho parteggiato diciamo così per le strutture private in quanto ho perorato l'esigenza delle strutture private di ricorrere all'extra budget extra regionale più volte ho scritto ai ministeri come presidente di regione facendo presente che laddove le altre regioni erano disponibili a pagare in termini di mobilità attiva noi avremmo dovuto poi corrispondere la mobilità attiva che facevano le strutture bolisane specialmente le due grandi strutture specialmente neuromed avremmo dovuto corrisponderla perché riscuotavamo e dovevamo pagare da commissario ho mantenuto questa visione ma da commissario ho dovuto applicare le direttive dei ministeri affiancanti commissario è una sorta di funzionario di governo che deve applicare necessariamente ciò che gli viene ecco ma voi queste annotazioni le avete rigirate proprio diciamo ai ministeri affiancanti ma i ministeri affiancanti spiegando motivando con esigenze di equilibrio del sistema sanitario nazionale non hanno mai permesso al commissario di autorizzare l'extra budget extra regionale quindi voi siete in attesa che loro diano il via libero io le dirò di più ci sono state delle impugnative da parte delle strutture private impugnative che hanno avuto un esito non favorevole davanti al TAR che però hanno avuto un esito favorevole almeno in parte davanti al Consiglio di Stato con quelle risultanze io mi riservo di recarmi il 18 il 18 prossimo andrò davanti ai tavoli tecnici e gli farò presente cosa decide la giurisprudenza una volta per tutte le direttive devono essere uniformate alle decisioni della giurisprudenza senza mettere in imbarazzo il Presidente Commissario ecco ma l'anno in corso è quello in cui mediante una precisa programmazione e riorganizzazione della rete ospedaliera si intende dare una svolta Presidente noi già l'abbiamo data una svolta a un settore che è in costante sofferenza e la cui ripresa influirà anche sulla ripresa sulla sopravvivenza della stessa regione allora la svolta sta nel fatto che gli atti non vengono assunti più in ritardo ma vengono assunti nei tempi previsti è previsto che all'inizio dell'anno vengano assunti i tetti di spesa per consentire alle strutture private in particolare ma non solo di poter programmare l'attività sanitaria che gli viene assegnata che noi da loro compriamo servizi e quindi questo è importante abbiamo rimesso in moto i controlli che diciamo avevano rallentato negli ultimi anni perché noi dovremmo controllare che le prestazioni erogate dai privati siano in linea con la cosiddetta appropriatezza una volta fatto il controllo dovremmo poi definire saldare tutti i pagamenti che dobbiamo fare in questi anni si è parlato presidente spesso degli ospedali di Termoli e di Isernia come di strutture non adeguatamente sostenute in fase di programmazione sanitaria il suo esecutivo ha effettivamente verificato che ciò è avvenuto? Guardi intanto l'esecutivo lo devo dire non per discolpare l'esecutivo l'esecutivo può far poco in sanità perché la sanità è commissariata nelle mani dello Stato e nelle mani del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze il problema vero non è tanto quello di avere una pianta organica completa il problema vero è quello di avere medici infermieri e os partecipano ai concorsi ma di avere medici che partecipino ai concorsi che risultino vincitori e che assumano servizio noi abbiamo avuto problemi seri come tutte le altre regioni nel reperire le faccio un esempio pediatri nel reperire anestesisti nel reperire medici d'urgenza perché queste reperire ortopedici perché mancano proprio questi medici specializzati in tutta Italia e nel Molise in particolare quindi noi facciamo i concorsi c'è il caso 118 medicina d'urgenza facciamo i concorsi vanno deserti i concorsi li dobbiamo ribandire con la speranza che giovani medici o medici anche meno giovani che lo possano fare partecipino a questi concorsi nel frattempo siamo costretti come è successo recentemente per il 118 a stipulare degli accordi cosiddetti integrativi per far sì che i 40 circa medici del 118 che abbiamo facciano ore in più per evitare di demedicalizzare postazioni importanti ma non è facile specialmente quando tu hai dei ministeri affiancanti che negli ultimi tempi hanno dato parere negativa ad un accordo che avevamo fatto anzi le do una notizia che è recentissima è pervenuto su mia richiesta e su mia insistente la revisione del parere negativo che è diventato positivo con dei paletti che penso che si possano tranquillamente accettare Niro che cosa ci dice del porto di Termoli il porto di Termoli è stato un altro dei grandi obiettivi che abbiamo raggiunto perché quando abbiamo cominciato a rifrequentare le commissioni a livello nazionale che nel passato forse sono state poco frequentate anzi forse per niente in alcune circostanze come nel caso della sanità e devo dire anche un po' anche delle infrastrutture perché quando si contestano si fanno i riparti se non hai gli atti che sono coerenti con i riparti per le quali tu stai facendo stai ricevendo delle risorse finanziarie è chiaro che a livello nazionale non ti consentono di poter beneficiare di quei riparti e mi riferisco soprattutto al fondo complementare sui porti e noi per fare il porto di termine non prendeva soldi assolutamente nessun tipo di contributo tant'è vero che non ci spiegavamo la ragione quando abbiamo approfondito la ragione per la quale il porto di termine non beneficiava di un centesimo di riparto nazionale allora abbiamo lavorato primo ad approvare il piano urbanistico portuale che è il primo elemento che ti consente di poter avere uno strumento urbanistico di come sviluppare un porto seconda cosa con quello strumento ci siamo inseriti all'interno dei riparti ed abbiamo avuto un primo riparto innanzitutto un primo riparto sul CIS che ci ha consentito di beneficiare di 15 milioni e 3 dei 5 lotti per come è stato suddiviso la realizzazione dell'intero piano urbanistico portuale il primo lotto diciamo funzionale per 15 milioni e 3 che è in fase di progettazione hanno trasferito già il 10% delle risorse per cui adesso finita la fase di progettazione definitiva si va all'esecutivo ed è una progettazione che sta portando avanti in vitalia perché è deputata in vitalia a gestire i CIS in più abbiamo siamo riusciti a fare accandonare una somma di 30 milioni di euro vincolata al riconoscimento però del porto di Termoli non solo perché si è dotata del piano urbanistico portuale ma perché ha avuto un grande riconoscimento di entrare a far parte dell'autorità del sistema portuale di una delle diciamo delle autorità del sistema portuale senza le quali tu non potevi beneficiare del riparto questo noi che facciamo parte da col decreto 68 da giugno del 2022 del sistema portuale del mar adriatico meridionale ci ha consentito di poter trasferire come dote all'autorità del sistema portuale di 30 milioni per completare il primo lotto funzionale del piano urbanistico ed avviare la seconda parte del piano funzionale oltre ad altri 16 milioni e 4 per il cosiddetto cold dialing cioè il sistema di innovazione tecnologica e di arredo elettrificato al fine di poter rendere green il porto di tele ecco prima di adentrarmi però nei meandri delle prossime regionali volevo fare quest'ultima domanda si parla molto della mobilità ciclopedonale ne ho parlato anche qualche settimana fa stato qui nei nostri studi il presidente della provincia di Chiedi Francesco Menna il quale ha detto si sta lavorando per questa ciclovia della costa pugliese morisana ed abruzzese quindi che va a congiungersi quindi proprio con le due regioni a noi limitrofe in breve che cosa bolla in pentola aveva ragione l'ex collega pallante che ci vorrebbe una trasmissione per declinare tutto quello che è i cittadini i telespettatori che ascoltano dicono ma soltanto questo avete fatto no invece questo è un altro dei primati è una cosa che interessa migliaia e migliaia di persone attorno a questo fenomeno delle ciclovie ci sono tanti appassionati che gradirebbero che ci fosse una lunga corsia che dalla Puglia passasse per Campomarino Termoli San Salvo Vasto e non solo perché questo è un altro dei grandi obiettivi che abbiamo raggiunto cioè noi oggi siamo l'unica regione in Italia che ha avuto interamente finanziata tutta la ciclo pedonale della costa adriatica cioè 36 chilometri sono 34 chilometri e qualcosa poi c'è una risacca a Montenero perché è quindi siamo arrivati a circa 37 chilometri di ciclo pedonale interamente finanziato con una prima quota dei fondi FSC di 5 milioni che sono già stati appaltati consegnati i lavori e quindi sono in fase di realizzazione questa restante parte di 21 milioni e mezzo stanno per andare in gara per la progettazione definitiva e poi sarà consegnata la progettazione definitiva ai singoli comuni secondo la convenzione che è stata sottoscritta per la realizzazione sono interventi che devono essere necessariamente e obbligatoriamente appaltati con il raggiungimento dell'OGV al 31 dicembre 2023 Assessore Pallante in questi tempi bui dove il gas è aumentato alle stelle l'energia elettrica lo stesso sta seguendo questo stesso discorso voi mi pare che state progettando dei progetti energetici che sono rivolti all'idrogeno perché? intanto anche qui partiamo solo di un piccolo segmento anche qui ci vorrebbe l'ennesima trasmissione siamo riusciti ad ottenere 15 milioni di finanziamento siamo tra le regioni che ha ottenuto in percentuale il finanziamento più elevato per la realizzazione degli impianti ad idrogeno in questi giorni i progetti sono stati approvati sono stati quindi validati i tre progetti che impegneranno i 15 milioni un progetto sarà realizzato nella provincia di Sernia gli altri due nella provincia di Campobasso con particolare riferimento all'area di Termoli che mi sembra quella più vocata ad utilizzare l'idrogeno sia per scopi di promozione industriale sia per l'utilizzo come io spero nell'automotive quindi da questo punto di vista non solo c'è un risultato che ci vede come dire raggiungere il risultato e aveva ragione il collega non l'ex perché Vincenzo Nino continua a essere assessore e quindi di fatto dalla formalità sappiamo tutti che si è dimesso per una questione politica ma ovviamente il grado di assessore gli rimane comunque soprattutto per il suo contributo e stavo dicendo questo obiettivo si raggiunge perché siamo andati sistematicamente in commissione prima forse chi ci ha preceduto non era così presente e oltre al risultato sull'idrogeno c'è stato quello per 45 milioni sulla qualità dell'abitare ne voglio citare un altro dei risultati e siamo state l'unica regione che è riuscita a far approvare ben tre progetti da 15 milioni quindi è chiaro che se voglio mi permetto di anticipare una breve nota politica se qualcuno continua a spostare per convenienza politica il dibattito sulle criticità e non ci dà modo di rappresentare quello che è per una mancanza di tempo perché siamo impegnati a difendere l'interesse della nostra regione verrebbe fuori una realtà molto diversa da quella che alcuni cercano di rappresentare abbiamo raggiunto i risultati che sono stati alla pari delle altre regioni in molte circostanze anche superiori veniva citata la ciclovia voglio citare il progetto per l'idrogeno voglio citare il progetto che riguarda la qualità dell'abitare insomma ci siamo distinti e siamo obiettivamente rispettati oggi nella conferenza Stato-Regione sia per l'azione che il Presidente ha fatto più volte Presidente della stessa Commissione sia per la nostra presenza addirittura nella Commissione Infrastrutturale siamo passati alla storia perché siamo andati in due assessori contemporaneamente quindi la presenza della nostra regione era ridondante lo devo dire perché i due assessori erano e sono l'assessore Niro e l'assessore Pallante partecipavano sempre mi ricordo il coordinatore Bonavitagola che ogni volta che mi incontrava mi diceva tu mandi il piccolo Molise manda due assessori e io ho detto la grande campagna deve stare attenta ai due assessori e quindi questi risultati naturalmente hanno prodotto alcuni risultati già concretamente risibili ed altri in fase di programmazione quindi il gioco di squadra è quello che prema di più quando avremmo completato avremmo rinsaldato la nostra regione con un personale io prima ho messo alcuni dati drammatici come sapete sono stato assessore a personale anche in precedente legislature nella mia precedente veste di assessore a personale c'erano 117 dirigenti io invece ho trovato la regione Molise con 17 dirigenti più i direttori generali c'erano 800 dipendenti ce ne sono 350 senza considerare le centinaia e centinaia di persone che stavano all'assistenza tecnica è chiaro che andare in battaglia con un numero così risibile siamo quasi alle termopoli con i 300 che difesero per quanto possibile contro l'esercito avversario poco alla volta la regione Molise ha riconquistato come dire sul campo sia la considerazione degli altri decisori istituzionali ma anche dal punto di vista della gestione dei finanziamenti dal punto di vista della risposta che oggi diventa sempre più complicata di accesso ai vari programmi di finanziamento Allora in questa parte conclusiva ora diamo un po' di spazio anche alle prossime regionali quelle del 25 e del 26 giugno oggi è arrivato in Molise il premi potenziario di Forza Italia il senatore Lottito che ha accolto da gran galantuomo la ministra Bernini per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università ma poi il discorso si è tramutato anche in chi sarà il futuro candidato presidente intanto vorrei farle questa domanda presidente lei ha corso per affermarsi o per ha corso per la sua regione Allora lei sa meglio di me perché questa è una domanda retorica che io non avevo bisogno non tanto retorica ma io non avevo bisogno di affermarmi perché quando ho corso nel 2018 se lei legge se chiunque può leggere perché è pubblicato il mio curriculum si accorgerà che avevo fatto tutto carriera professionale carriera degli studi carriera degli insegnamenti tutto io avevo svolto ruoli importanti ero stato presidente dell'ordine di dottori commercialisti docente universitario insomma non avevo bisogno di affermarmi anzi forse c'è stato un minus successivamente ho corso perché volevo lasciare una traccia positiva per quanto ne fossi capace nella mia terra nella regione molise e per i cittadini della regione molise ecco intanto a livello nazionale è prevalsa fino a questo momento non sappiamo se lo sarà anche per il molise il fatto che a livello nazionale i leader Meloni Salvini e Berlusconi hanno riconfermato alla guida delle regioni i presidenti uscenti e il Forza Italia ha stravinto non ha vinto in Lombardia nel Lazio e nel Friuli mettendo addirittura il Movimento 5 Stelle ha ridotto a minimi termini in Friuli con il 2,4% allora lei ritiene di meritarsi la riconferma presidente dopo guardi le risponderò senza politichese io mi sono messo a disposizione del partito e della coalizione per la candidatura alle prossime elezioni regionali al presidente della regione ritengo di aver portato sulle mie spalle insieme all'aggiunta c'è stato un lavoro corale sulle nostre spalle abbiamo portato un peso enorme nel 2018 il terremoto nel due anni di covid con una sanità commissariata la diatriba con le strutture private ai medi questo me ne dispiace molto e nonostante questo siamo riusciti a portare a casa risultati notevoli quindi ritengo che in certo qual modo la coalizione e il mio partito in primis debba essere leale nei miei confronti e riproporre la mia candidatura ma se lo farai ma lei con Lotito ha avuto contatti in questi giorni anche oggi lo avrà visto senza altro guardi io con il senatore Lotito mi sento a volte anche cinque volte al giorno oggi ci siamo sentiti già tre volte ci siamo visti stamattina perché facciamo anche lavori parlamentari molti emendamenti li scrivo io li scriviamo insieme e li facciamo arrivare in senato ho contatti con la delegazione parlamentare Morisana con il senatore della porta con la parlamentare D'Ancellotta io ho contatti che non avevo prima con la ma mi toglie un dubbio ma come viene fuori questo nome di rettore Brunese chi è che l'ha fatto guardi io rapporti con il rettore Brunese quasi giornalieri come viene fuori questo nome non ho idea io non sono al tavolo delle trattative perché le dico anche perché io ritengo che chi aspira a candidarsi da presidente aspirazione legittima di tutti attenzione non è solo la mia aspirazione se aspirasse l'assessore Nero se aspirasse l'assessore Ballanti sono aspirazioni legittimissime ma io ritengo che chi aspira non debba trattare la propria candidatura debba mandare altri a trattare Nero fra i tre presenti qui questa sera è l'unico che partecipa ai tavoli del centro-destra essendo il coordinatore regionale dei popolari in queste riunioni che finora si sono tenute anche a Roma e qui anche in Molise come si sta delineando la figura del candidato presidente che dovrà poi essere indicata per delle elezioni che ormai sono imminenti mancano poco più di due mesi la mia posizione la posizione del mio partito credo che è nota da diverso tempo per la verità le riunioni vanno avanti per cercare innanzitutto di capire sul piano programmatico quello che sarà il programma che questo centro-destra vuole portare avanti ulteriormente rispetto a quello che sta facendo e quindi sulla scorta di questa azione programmatica si lavorerà a trovare la migliore soluzione possibile io credo che alla fine l'importante è avere un sistema di condivisione unitaria per andare insieme a cercare di vincere le prossime elezioni regionali quindi nei tavoli mano a mano si affrontano i problemi e dopo che sarà completato il quadro si inizierà anche a guardare alle legittime aspirazioni alle quali faceva riferimento il presidente Toma legittime per tutte sulla scorta di questo noi ci adopereremo affinché questa regione possa portare avanti un programma che è iniziato nel 2018 ma la quadra si riuscirà a trovare secondo lei entro fine mese e quindi presentarsi compatti alle prossime regionali ma guarda vedremo come vede qualche criticità lei al momento lei che lei siede in questo tavolo guardi le criticità stanno su tutti su tutti gli ambiti perché le legittime aspirazioni di ognuno di ogni partito che si ritiene presente in coalizione aspira a fare delle proprie percorsi in avanti per cui quello che sarà il domani oggi è complicato andarlo a definire però credo che una linea di azione comune debba essere portata avanti vedremo mano a mano che si sviluppano si svilupperà il lavoro come verrà fuori in che modo e quali sono i termini anche nel rispetto della della dignità di rappresentanza di ogni forza politica nell'ambito di una scelta sia passata sia futura Parlante Fratelli d'Italia non lo nascondiamo punto ad essere il primo partito in Morise sulle aree dell'entusiasmo anche del successo ottenuto dalla Meloni sia le politiche che nelle ultime tre elezioni regionali di Lombardia Lazio e Friuli però molti ritengono che vadano evitate le forzature il solista non va bene e qualcuno dovrebbe fare secondo lei pure un passo indietro se si accorge che non ha possibilità di riuscire a sfondare credo che questo sia l'unico metodo che possa portare la nostra coalizione ancora una volta a vincere e a confermare i successi che soprattutto in ultimo periodo sono stati raggiunti in tutte le parti d'Italia e anche nella nostra regione voglio ricordare che la nostra coalizione ha raggiunto l'unplain e ha completamente ribaltato l'esito che cinque anni fa fu nefasto per la nostra regione adesso parlo da cittadino non da componente di fratelli d'Italia c'è stata una delegazione parlamentare tambente inconcludente che ha danneggiato la nostra regione quindi passi indietro sicuramente molto più dei passi in avanti ma noi su questo siamo abituati io sono molto più fiducioso che anche questa volta si chiude come è stata la volta precedente con delle candidature che siano il meglio che la coalizione possa offrire sotto questo profilo è bene che ci sia un confronto per arrivare alla migliore composizione possibile e la migliore composizione possibile implica che alcuni devono fare dei passi in avanti quindi autocandidature e forzature sono addirittura deleterie e lo dice uno che fa politica da tanti anni che in questo momento è all'interno di un partito che non aspira ad essere il primo è già il primo partito ma questo non impone al primo partito come dire la necessità di esporre sistematicamente i propri uomini se sono considerati una risorsa ben fatta altrimenti siamo abituati a rimboccarmi le maniche sono sicuro che tutti gli altri ancora una volta rimbocchino le maniche per l'interesse collettivo e per l'interesse della nostra coalizione dei nostri cittadini quindi alcune come dire consuetudini politiche sono necessarie e preliminari non esiste un raggiungimento di un obiettivo politico senza la concertazione e chiudo dicendo questo noi siamo facilitati rispetto ai nostri concorrenti perché abbiamo consolidato in tanti anni di governo a livello locale e a questo punto a livello governativo i nostri programmi quindi per noi è come dire de plano fermo restando che alcuni confronti ci devono essere a che punto siamo con la formulazione della lista in Fratelli d'Italia? guardi io do il mio modesto contributo posso dirle che rispetto alla cinque anni fa c'è una richiesta spontanea e quindi da questo punto di vista quindi tante adesioni non solo ma è notizia dell'ultima ora che il nostro coordinatore responsabile Donzelli ha come dire dato un la all'esecutivo regionale al coordinamento regionale al nostro coordinatore regionale di avere un numero di candidati almeno doppi quindi noi contiamo di portare all'esame di Roma un numero almeno doppio di candidati per poter appunto schierare schierare la migliore formazione possibile e nessuno di noi a cominciare da me deve considerarsi come dire dispiaciuto di questo ulteriore supplemento di indagini rispetto alla migliore scuola possibile ecco lei da quante legislature è consigliere regionale? io sono in una regione da 2001 da diverse legislature invece Niro che è un altro veterano della politica da quante legislature sul gruppone? sempre 2001 sempre 2001 praticamente io dovrei chiedere la discontinuità non loro ma allora Niro invece lei riesce sempre poi a fare una lista competitiva a comportarsi bene sia la regione che i comuni quindi è a buon punto la sua lista? si lavora si lavora come abbiamo sempre fatto stiamo ormai a 50 giorni circa poco più per diciamo per definire gli ultimi dettagli e proveremo anche questa volta a dare del nostro meglio con l'impegno che abbiamo messo sempre così come l'abbiamo fatto nelle elezioni amministrative di Termoli Campobasso Isernia così come l'abbiamo fatto nelle elezioni di secondo livello a provincia di Campobasso a provincia di Isernia così come lo facciamo in tutti i comuni dove in questi cinque anni si sono svolte le competizioni elettorali abbiamo dato il nostro contributo faremo la stessa cosa anche questa volta posso solo fare una piccola chiosa perché insomma sembrerebbe che poi a stare nel 2001 sia una data di demerito in politica come nelle altre professioni avere l'esperienza conta ma io auspico che in questa tornata elettorale io sia l'ultimo e quindi tutti abbiano preso più voti di me per essere sincero quindi si torna in consiglio con i voti ma se io dovessi essere superato da tutti gli altri 19 candidati sarei comunque felice Presidente Toma immagini di stare in una piazza sul palco in un comizio davanti a lei c'è il triunvirato Meloni Berlusconi Salvini che cosa direbbe a questi suoi illustri amici e devo dire cosa direi ad ognuno di loro o a tutti e tre faccia lei vedo la parola finale quindi dica quello che vuoi direi ricordate nel 2018 cosa è successo c'era imbarazzo su chi si doveva candidare a presidente per cui i cosiddetti veterani della politica esclusi i presenti perché io voglio chiarire che con l'assessore Nino un rapporto d'amicizia antico non è nato con le elezioni e con l'assessore parlante abbiamo una conoscenza quella fu la notte dei lunghi coltelli ai Sernia presidente lo ricordiamo bene e quella volta c'era grande imbarazzo su chi candidare e tutti i veterani della politica attuale e passata perché poi quelli della passata sono anche gli attuali per la verità diciamo che hanno fatto diversi passi indietro alla fine fui fui chiamato con una telefonata a partecipare ad una riunione e io ho dato il mio apporto tutti pensavano che avremmo perso forse per questo nessuno ci voleva mettere la faccia partivamo con 20 punti di svantaggio abbiamo vinto con 43% di preferenze contro il 37% del Movimento 5 Stelle e abbiamo il centro-destra che nel bene più nel bene che nel male ha governato fino ad oggi oggi il centro-destra è il ring alluzzito scusatemi è dalle vittorie in queste tre regioni quindi caro Silvio cara Giorgia e caro Matteo abbiamo fatto molti errori penso che li abbiate fatto voi ma prima di voi li ho fatti io però abbiamo fatto anche molte cose buone insieme potrei ricordare ad ognuno di loro un incontro o ad una telefonata in cui abbiamo discusso di criticità politiche che nascevano loro ne hanno discusso non con un veterano della politica io ero un neofita della politica una persona che aveva cercava di metterci il buon senso qualche volta sbagliava nelle reazioni cosa che ho imparato a controllare però poi insomma le cose sono andate bene e abbiamo portato più benessere a questa regione ci vorrebbe uno sforzo maggiore di tutti e tre perché questa regione ha bisogno in questo momento di una considerazione massima per un intervento eccezionale per il Molise sia in sanità che sul bilancio bene contro la rovescia da qui al 25 di giugno otterrà ogni venerdì sera un parterre di tutto rispetto sia del centro-destra ma anche del campo progressista tra poco avremo Michela Fanella Fanelli con lei parleremo un po' di cosa sta accadendo in casa del campo progressista se ci sarà questa convergenza sul nome di Domenico Iannacone uscirà qualche altro nome che potrebbe anche spaccare e dividere la stessa coalizione di centro-sinistra perché anche lì come nel centro-destra le idee ancora non sono molto molto chiare intanto io ringrazio il presidente Donato Toma per essere stato con noi grazie a lei e ai telespettatori per la pazienza il consigliere regionale nonché il segretario regionale dei popolari fino ad un mese fa assessore della giunta regionale e l'assessore Quintino Pallante grazie per il contributo che avete dato ora noi manderemo in onda un'intervista che abbiamo realizzato con il sindaco della provincia di Pescara Carlo Masci è stato avvicinato dal nostro Pierluigi Borragine una panoramica a 360 gradi sul futuro della città di Pescara naturalmente ogni settimana avremo ospiti anche politici del vicino Abruzzo perché il nostro intento quello dei nostri editori è di dare spazio in ugual misura sia al Molise che all'Abruzzo allora linea a Masci poi avremo nei nostri studi Micaela Fanelli a tra poco dunque è soddisfatto di quello che ha fatto? Sì molto soddisfatto dell'impegno che ho profuso in città certo sono stati quattro anni durissimi perché abbiamo attraversato il periodo più difficile del mondo con la pandemia a cui poi sono seguite una crisi economica finanziaria sociale poi la guerra con la crisi umanitaria l'aumento dei prezzi situazioni veramente incredibili che nessuno poteva mai immaginare di vivere nessuno italiano o nessuno al mondo ma abbiamo retto bene l'urto delle varie situazioni che si sono presentate poi adesso stiamo gestendo il cambiamento un cambiamento epocale che ci porterà in un nuovo mondo e i comuni sono gli enti sottoposti al maggior stress però devo dire che Pescara è sempre una città effervescente dinamica che accetta il cambiamento che riesce a guardare al futuro con spirito positivo e quindi è una città che si sta muovendo molto io lo vedo con il settore edilizio noi siamo passati dal 2019 con 3.000 pratiche edilizie gestite al 2022 con 9.300 pratiche edilizie portate avanti un numero incredibile ma sappiamo che Pescara è molto vitale da questo punto di vista ma la cosa che più mi ha soddisfatto è l'attenzione al sociale Pescara oggi investe nel piano sociale di zona per i prossimi tre anni 54 milioni di euro una cifra mai investita sul nostro territorio però è anche vero che le persone che si sono rivolte ai nostri centri sociali e alla nostra struttura sociale sono passate da circa 8.300 a 13.500 il numero è aumentato molto perché si è allargato il divario fra le persone che stanno meglio e coloro che invece soffrono ma noi siamo sempre pronti a tender la mano a chi ha bisogno a chi soffre a chi chiede un aiuto la città di Pescara è molto solidale e noi abbiamo una rete di protezione che il comune gestisce insieme alle tante associazioni di volontariato che funziona molto nessuno a Pescara viene lasciato solo aiutiamo tutti quanti abbiamo anche un piano freddo dove ospitiamo in albergo i senza tetto così come con le case sequestrate dalla criminalità organizzata abbiamo organizzato delle strutture che oggi ospitano senza tetto e alcuni hanno ripreso un percorso di vita ed è la cosa più bella questa così come abbiamo aiutato gli ucraini in questo percorso umanitario a Pescara abbiamo avuto molti molti ucraini e i bambini ucraini sono andati a scuola con i nostri bambini hanno giocato insieme ai nostri bambini nelle associazioni sportive che li hanno accolti come se fossero fratelli quindi sono contento di quello che succede in questa città e oggi c'è ovviamente la possibilità di investire molte risorse con il PNRR il comune di Pescara ha ottenuto molti finanziamenti perché ha partecipato a tutti i bandi del PNRR ottenendo risorse importanti abbiamo già fatto le gare rispettando tutti i tempi che c'erano stati imposti dal PNRR e oggi il tema è proprio questo molti comuni non riescono a rispettare i tempi noi li stiamo rispettando perfettamente già diversi lavori sono partiti ma in questo 2023 partiranno oltre 100 milioni di euro di lavori un numero impressionante se consideriamo il fatto che negli anni normali generalmente si spendevano dai 15 ai 20 milioni di euro in una città come Pescara oggi arriviamo a cifre notevolmente superiori però la struttura ha funzionato e continua a funzionare abbiamo fatto un appello alle nostre imprese rispondete agli appalti ci sono tante possibilità di lavoro cerchiamo di sfruttarle al meglio confrontandoci con tutte le imprese che vogliono partecipare ai nostri bandi perché c'è la possibilità di fare molto per la nostra città Senta lei diceva nuove opere e lo ha sottolineato più volte senza far tirare fuori neanche un euro ai pescaresi perché appunto sono fondi del PNRR Senta la prossima sfida qual è? La prossima sfida alcune opere pubbliche fondamentali per esempio noi abbiamo il ferrotello al centro della città è partita già la gara nei prossimi giorni sarà individuata la ditta che vincerà l'appalto e quindi partiranno i lavori per la ristrutturazione di un edificio importante proprio al centro della città così come l'abbattimento dello svincolo a trombetta già c'è la ditta che ha vinto la gara si abbatterà lo svincolo a trombetta di fronte alla pineta da Avalos in modo da liberare da quel detrattore ambientale tutta un'area che dal punto di vista ambientale ha una valenza importantissima a maggior ragione dopo l'incendio che c'è stato il primo agosto del 2021 che purtroppo ha distrutto una parte della nostra pineta ma la stiamo ricostruendo attraverso esperti di fama nazionale e anche internazionale già abbiamo il progetto che adesso ci permetterà di entrare dentro la pineta per cominciare i lavori di risanamento ma così come il rifacimento la riqualificazione delle riviere sia quella nord che quella sud dove abbiamo previsto interventi importanti pescare una città molto attiva da questo punto di vista adesso l'obiettivo è quello di portare a termine tutte queste gare e i lavori che ne seguiranno perché questo anno sarà un anno veramente in cui la città cambierà il volto l'altro obiettivo che vogliamo raggiungere un obiettivo che tutti hanno cercato di raggiungere da 27 anni a questa parte è l'avvio della filovia il collegamento tra Montesilvano e Pescara perché si parla tanto di questa nuova città che nascerà con la fusione tra Pescara Montesilvano e Spoltore ma a questa città dobbiamo dare una spina dorsale e la spina dorsale è proprio questa filovia che partendo da Montesilvano dal World Health Village attraverserà tutta Pescara con mezzi elettrici a zero impatto ambientale perché per noi la sostenibilità ambientale è fondamentale e arriverà fino al confine con Francavilla perché un giovane di Montesilvano deve poter andare all'università oppure un avvocato di Montesilvano deve poter andare in tribunale oppure un tifoso di Montesilvano deve poter andare allo stadio di Pescara non con la macchina oppure avventurandosi in un percorso difficilissimo in mezzo al traffico con un mezzo pubblico ma con un mezzo pubblico che invece attraversi un percorso dedicato e che ci metta un tempo breve competitivo con le autovetture in modo da spostare una parte di quelle persone che oggi entrano a Pescara con la macchina inquinando sul mezzo pubblico senza inquinare con tranquillità e con serenità perché Pescara è una città che punta molto alla qualità della vita lo dice il fatto che noi siamo bandiera blu siamo capoluogo di provincia e nonostante questo una città che ogni giorno da servizi a 300.000 persone almeno ha il mare pulito di fronte al centro della città con una bandiera blu che pochissime città di queste dimensioni hanno è un vanto è un fiore all'occhiello abbiamo questi 100 stabilimenti balneari con una spiaggia bellissima che danno una vitalità turistica notevole quindi anche su questo puntiamo molto lei prima accennava alle difficoltà vissute durante i momenti critici della pandemia ma non solo però ha anche detto in altre interviste che non si è mai sentito solo ecco l'importanza di avere un punto di riferimento come regione ma anche il punto di riferimento del governo attuale è importante la famosa filiera è fondamentale la filiera che parte dagli enti locali quindi dai comuni quindi dai cittadini che poi arriva in regione e arriva al governo nazionale questa filiera che ci permette di fare tante cose che sarebbero altrimenti impossibili noi abbiamo vissuto l'esperienza della pandemia ma traendo anche grandi insegnamenti per esempio noi abbiamo realizzato un ospedale covid grazie alla regione all'interno dell'ospedale di Pescara nella cittadella sanitaria in un edificio che era abbandonato da almeno 15 anni in tre mesi la regione ha realizzato l'ospedale covid e quando ci siamo seduti al tavolo in poche persone per decidere che l'ospedale covid andava dentro la cittadella sanitaria al centro della città nessuno ha avuto dubbi a cominciare dal presidente della regione che subito si è lanciato in questa avventura e abbiamo dato alla città di Pescara e a tutto l'Abruzzo un ospedale covid in tre mesi che oggi ovviamente stando dentro all'ospedale è una struttura che è utilissima ma che allora è servita per bloccare purtroppo quella pandemia e certamente fare in modo che non ci fossero ulteriori vittime rispetto a quelle che ci sono state ma tante altre scelte abbiamo fatto con la regione a cominciare dalla filovia dove la regione ha investito molto e crede molto in questo obiettivo e poi un altro obiettivo che è sulla sicurezza urbana con la regione stiamo abbattendo e demolendo il ferro di cavallo che era la cittadella un fortino della delinquenza a Pescara conosciuto in tutta Italia tra qualche giorno comincerà la demolizione grazie al fatto che ci abbiamo creduto fino in fondo il comune di Pescara la regione e l'Ater con un obiettivo che sembrava veramente impossibile e che invece abbiamo colto con grande soddisfazione non soltanto nostra ma soprattutto dei cittadini di Pescara e di tutta la regione siamo nella seconda parte di conto alla rovescia come abbiamo anticipato nei nostri studi ci ha raggiunto Michela Fanelli consigliere regionale del partito democratico buonasera e grazie per l'accettato l'invito allora dopo aver parlato con gli esponenti del centro-destra questa volta è doveroso sapere anche qualcosa di quello che sta accadendo all'interno del campo progressista a che punto siete con la scelta del candidato presidente ma riporto quelle che sono le attività del lavoro che si sta svolgendo al tavolo di confronto dove i nomi attualmente rappresentati sono quelli di parte politica e sono quelli per il partito democratico il segretario Vittorino Facciolla il capogruppo Michela Fanelli il sindaco Candido Paglione per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle i consiglieri Vittorio Nola e Angelo Primiani a questi nomi si è aggiunta una figura non politica da parte del movimento Molise domani che è il giornalista Domenico Iannacone in queste ore ovviamente sono intensi i rapporti sia con le segreterie locali sia con gli esponenti gli amministratori gli amici che con noi parlano sia con quelle nazionali credo che la prossima settimana saranno previsti altri incontri è convocata la direzione del Partito Democratico domenica sera quindi ore intense ore naturalmente fisicamente io credo produttivamente intense non è solo un tema di nomi è un tema come tutti sanno anche di organizzazione perché bisogna essere d'accordo sui punti fondamentali per quello che io suggerisco essere d'accordo nel candidare anche dei giovani oltre la quota delle donne saper rappresentare quello che i molisani si aspettano quindi tutti i territori equilibrare bene e dosare bene per esempio per i partiti principali le varie aree territoriali è un momento in cui si lavora su programma su nomi su visioni ecco lei sa bene meglio di me che le dinamiche del voto delle politiche sono completamente opposte rispetto a quelle delle regionali tant'è che i grillini spinti dalle motività dei voti ottenuti alle politiche pensavano di diventare il secondo partito invece dopo le elezioni regionali di Lombardia Lazio e Friuli il Partito Democratico ha ripreso coscienza di sé cioè sta diventando il partito pieno anche di Boria possiamo dire convinto di poter svolgere ancora il ruolo di primo piano nel contesto del paese mentre nei sondaggi i grillini stanno attraversando il periodo più buio della loro storia pensare che non hanno raggiunto il 10% né in Lombardia né in Lazio e addirittura in Friuli hanno ottenuto un misero 2,4% in seguito alla vittoria anche della nuova segretaria Elix Line il Partito Democratico riprende forza ai danni della galassia gialla rispetto a 5 anni fa dove voi avete vissuto forse il periodo più brutto della vostra storia qui Moise in termini elettorali pensate di poter essere tornare ad essere di nuovo protagonisti anche della vita di questa regione ma senza dubbio sì io credo che i partiti strutturati come il Partito Democratico da una lunga storia e dai valori saldi e dalle radici salde hanno anche fisicamente degli alti e dei bassi ma sono sempre molto forti all'interno dell'opinione pubblica abbiamo resistito appunto come dicevi bene tu anche a una pagina che era la più difficile quella di 5 anni fa e oggi sicuramente abbiamo molta più forza non voglio dire vento in poppa saremmo anche forse eccessivi ma sicuramente molta più forza di allora credo quindi che possiamo svolgere a livello nazionale già così il ruolo di primo partito del centro-sinistra nei sondaggi è questo nel Parlamento è questo credo che all'interno dello scenario regionale possiamo essere il partito federatore per essere così anche non presuntuosi verso gli alleati che meritano rispetto tutti i piccoli i movimenti i civici e ovviamente i colleghi del Movimento 5 Stelle io credo ci voglia rispetto reciproco ma ci voglia anche capacità di riconoscere una forza che oggi il partito democratico ha in campo ha nella qualità della propria classe dirigente con riconoscimento reciproco io credo che il lavoro al tavolo e alla discussione che stiamo facendo l'approccio sia molto più semplice altrimenti né i veti né i divieti né le imposizioni né le primogeniture funzionano e invece io credo che sia una discussione quella che si sta facendo positiva e ripeto anche con i piccoli e con i movimenti dove ognuno porta il proprio contributo vedremo dove arriveremo io poi sono molto favorevole a che si realizzi quel campo largo che abbiamo troppo poco cercato nelle ultime politiche l'alleanza con i 5 Stelle è fondamentale abbiamo visto che cosa vuol dire perdere un'elezione se non ci si allea ma bisogna essere capaci di leggere il dato del Molise che vede un forte elettorato ovviamente nella curva al centro che è altrettanto importante parlare di proposte per le famiglie osteggiare la denatalità oggi all'Università del Molise abbiamo celebrato i 40 anni abbiamo conosciuto dei dati molto importanti la iscrizione e la laurea dei molisani è altissima rispetto alla popolazione la percentuale più alta d'Italia al tempo stesso oltre il 50% dei laureati vanno fuori a lavorare e questo è il dato più importante che secondo me la politica regionale dovrà secondare il rapporto fra PIL cioè ricchezza di un territorio investimenti in sviluppo e formazione e natalità è bionivoco cioè significa che non si va fuori e si nasce di più nei posti più ricchi perché si veste di più in cultura formazione e sviluppo ecco questo è uno dei grandi temi della campagna elettorale ecco lei non ritiene che un'eventuale candidatura di un papa straniero possa rompere la vostra il campo progressista io credo che correttamente sia il partito democratico sia il movimento 5 stelle sia gli altri abbiano detto ci vuole la politica la buona politica ci vogliono competenze amministrative il che non vuol dire riproporre necessariamente soluzioni viste che magari hanno anche non incontrato il voto degli elettori però vuol dire mettere molta competenza in un'azione amministrativa che ne ha bisogno davvero 150 milioni di euro di disavanzo lascia il governo di centrodestra una sanità senza piano operativo i problemi nell'assenza della programmazione addizionale tu conosci bene i fondi europei sei stato anche attore spesso di interventi per l'Europa e oggi noi abbiamo un miliardo e mezzo bloccato perché non c'è la quota di cofinanziamento significa assenza di bandi per le imprese assenza di lavoro assenza di formazione continua per chi gli occupati che devono riqualificarsi molto spesso anche i cinquantenni perdono il proprio posto di lavoro non cofinanziamo l'FNA sul sociale quindi facciamo zero politiche voglio solo citare questi esempi per dire che avere competenza significa accendere la macchina la mattina dopo che sia in regione non aspettare magari anni per capire come funzionano le cose questo oggi serve al Molise il politico che deve interpretare meglio questa funzione è il presidente certo se c'è questa possibilità io credo che è un vantaggio quindi i papi stranieri cosiddetti tra virgolette sconterebbero questa difficoltà però al tempo stesso e quindi io propendo fortemente per una personalità politica al tempo stesso sappiamo che ricucire fra le parti non è semplice e che quindi serve anche una figura che faccia il massimo dell'unità che significa la possibilità di vincere realmente propenderete per le primarie voi di coalizione io sono sempre stata molto favorevole il partito democratico molto favorevole alle primarie di coalizione l'abbiamo lasciata come estrema razio in caso di assenza di accordo al tavolo i tempi stringono oggettivamente mi rendo conto che diventa sempre più difficile pesa e questo è un po' un dispiacere un veto che il Movimento 5 Stelle ha messo su questo strumento dopo averlo adottato in Sicilia aver poi rinnegato il risultato finale hanno diciamo un legittimo anche timore di non volere un voto alle primarie io invece penso che avrebbe molto aiutato primo perché dai al popolo alla gente la possibilità di esprimere la propria opinione su chi è il leader più capace di interpretare i loro bisogni secondo perché fai campagna elettorale gestisci con le persone nei comuni nei territori il confronto sui programmi posso dirlo forse questi tavoli hanno un po' stufato perché non entra mai la politica il programma le infrastrutture i temi che più colpiscono le persone non sono ancora entrati nel dibattito politico le primarie aiutano molto questo aiutano anche a vincere mi ero permessa anche di suggerire insieme ad altri amici del partito democratico delle forme anche innovative di primarie per esempio correndo a coppie con pari dignità un partito democratico un 5 stelle un civico un verde chiamiamoci così che poteva essere un metodo nuovo per indicare presidente e vicepresidente in modo tale da dare pari dignità ai partiti maggiori ai movimenti difficile accogliere un'innovazione di questo tipo in un momento che tutti sono molto concentrati nel tentativo muscolare di avere la prevalenza sull'altro e quindi anche questo tentativo di introdurre dei metodi nuovi mi sembra che non sia stato non vada in porto però se non ci sono le primarie io chiedo a tutti ai miei alleati al partito democratico di essere molto attento ad ascoltare la gente assemblee sondaggi opinione orecchio a terra gli amministratori assemblee con i sindaci cioè noi abbiamo bisogno di recuperare una collegialità nelle scelte di vertice altrimenti ben venga poi che Roma decide per noi io onestamente penso che non abbiamo bisogno né troppo di papi stranieri né di Roma che sceglie al posto dei Molisani io credo che loro sono rispettosi del territorio ascolteranno anche molto il territorio certo che più è forte la proposta è blindata dal basso in un accordo politico locale meno il livello nazionale arriva lo stiamo vedendo anche nel centro-destra aver individuato l'Otito come Deus Ex Machinica di Forza Italia che non è un molisano che già è stato mal sopportato come candidato che è venuto da fuori e che ora deve imporre anche delle scelte io lo trovo diciamo un po' troppo muscolare rispetto molto i colleghi che hanno fatto con me consiglio regionale anche perché loro sono eletti dai molisani quindi a un certo punto capisco anche quasi il fastidio che provano in queste eccessive intromissioni per quello che ci riguarda è fisiologico c'è sempre stato un dibattito fra territorio e Roma nelle scelte di vertice sia del Parlamento sia mi ricordo anche i cicli precedenti del vertice della regione perché sono elementi politici troppo importanti però sarebbe importante arrivare a un accordo locale perché questo dimostrerebbe maturità e eviterebbe forzature eventuali da Roma ecco intanto va rilevato che il Partito Democratico sta facendo già la sua lista sappiamo che sono tanti nomi è molto forte fa molto piacere che sia forte ben variegato in ogni angolo della regione ma anche il Movimento 5 Stelle ci tiene a diciamo a ben figurare non ripetere diciamo le brutte figure che hanno fatto nei tre precedenti quindi i vari Greco Primiani Nola ce la metteranno tutta per ben figurare come è giusto che sia in tutti i partiti e poi c'è anche quella galassia di movimenti civici Morise Solidale gli stessi socialisti di Miniscalco quindi e poi all'ultimo momento c'è stata questa rottura fra Calenda e Renzi che hanno scombussolato un po' le carte anche perché però ne anticipo anche che in Morise Azione e Italia Viva stanno insieme faranno però una lista civica non ci sarà lo stemma lo hanno comunicato anche a Roma quindi voi sperate di recuperare questa intesa anche con gli amici di Valente e di D'Ambrosio io ho trovato molto intelligente la scelta degli amici Valente e D'Ambrosio perché hanno dimostrato appunto schiena dritta e hanno saputo restare in amicizia di fronte a dei galli che oggettivamente si stanno beccando a livello locale anche dando uno spiacevole spettacolo all'opinione pubblica perché poi ma nessuno se l'aspettava comunque che io potessamente conoscendo i caratteri dei due aveva intuito qualcosa temevo che il matrimonio che non si era ancora celebrato finisse prima di partire pensavo che le ragioni di Stato cioè il fatto di stare insieme per motivi di opportunità politica prevalesse in realtà l'abbiamo visto presi i seggi in Parlamento perché per esempio per Matteo Renzi è stata una gran fortuna avere l'ok di Calenda per riuscire a esprimere i voti dei suoi superare lo sbarramento che non avrebbe più fatto poi si è reso molto autonomo fino a pensare agli europei in modo autonomo perché sappiamo che c'è un voto proporzionale anche se io non do per scontato che poi a furia di dividere l'atomo i cittadini si disorientino ulteriormente ma contrariamente a questi galli romani invece sul territorio Luigi Donato gli altri stanno dimostrando serietà perché vogliono migliorare le condizioni del Molise loro staranno all'interno della partita regionale mi auguro con il centro-sinistra mi auguro fortemente raccogliendo questo invito alla pluralità di anime rappresentate e credo che il fatto di non avere più un'identificazione politica possa molto aiutare anche l'accordo con i 5 Stelle a cui faccio appello perché questa regione se la vuoi migliorare la dobbiamo governare per governarla abbiamo bisogno di forze moderate e se diciamo sempre che chi ha governato in giunta con Donato Toma è stato un esecutivo che noi abbiamo ovviamente molto criticato e quindi non possiamo accogliere coerentemente di aspore di quella parte politica dobbiamo accogliere amministratori attivi di qualità come vengono rappresentati in una civica gli amici Luigi Donato gli altri quindi io direi che anzi rivolgo un appello a stare insieme che è una condizione che ci porta a vincere le elezioni io non penso che possiamo fare a meno di un voto moderato non solo rappresentato da loro ma anche rappresentato da loro ecco le teme l'assenzionismo inquietante le prossime elezioni questo è il vero tema questo è il vero tema molto bravo tu averlo posto il partito da battere è quello degli astensionisti che è un partito che è costituito guardavo proprio ieri commentavo con alcuni amici un dato molto da cattolici il 60% circa di astensione attesa purtroppo se guardiamo il trend delle altre regioni io mi auguro la smentiremo clavorosamente ha una componente altissima di voto cattolico che non vede più la parte proprio valoriale rappresentata i valori della famiglia l'impegno per esempio per lo sgravo dei costi dei figli per cui nessuno fa più figli perché si ha paura nella impossibilità di poterli far studiare crescere in modo degno decoroso e questo è per esempio solo un grande sintomo della politica mia di tutti a non riuscire a rappresentare più bene un elettorato sfiduciato poi Molise io credo abbiano ragione molto i cittadini la sanità non funziona le strade sono ovviamente dissestate per la mancanza di fondi molto spesso siamo sordi alle esigenze anche puntuali oltre che di sviluppo e divisione del territorio hanno visto un consiglio regionale diciamo la verità litigare in ogni parte e nel covid tutti hanno avuto molta paura rispetto a questa assenza di risposte è chiaro che il moto a non andare alle urne è forte però io per dirla con Don Milani le mani pulite in tasca non si tengono lo diceva ai suoi alunni lo diceva per ricordare a tutti che non serve essere persone oneste se poi non si prova a dare una mano alla propria comunità le mani pulite ragazzi che sono soprattutto loro che vorrei vedere tornare ad entusiasmare la scena politica non serve tenerle in tasca le mani pulite devono servire a lavorare sfangare il terreno va adesso arato faremo degli incontri io per prima molto rivolto ai giovani mi auguro che portino le loro idee faremo un programma giovane per i giovani io proverò a dire al mio partito che questo è uno dei nodi centrali e ho fatto già diversi incontri su questo continuerò anche con ironia e allegria vorrei dire anche quest'altra cosa le elezioni si vincono non solo con le alchimie e i partiti e i nomi le elezioni si vincono con l'entusiasmo e l'ottimismo nell'ultima assemblea la neosegretaria Alice Line aveva lanciato quasi una sorta di ultimatum abbiamo dei mali da estilpare non vogliamo più vedere capi bastone cacicchi varia certamente non c'è andata per il sottile e aveva indirettamente fatto fischiare le orecchie a più di qualche esponente della vecchia nomenclatura del partito democratico secondo lei cambierà qualcosa anche in Molise io spero che il Molise sia capace già di suo di rappresentare una pluralità e non avere nessun tipo di vincolo con capi bastone di nessun tipo nelle primarie ha vinto Bonaccini in Molise perché diciamo tutta la dirigenza del partito democratico si è orientato in una direzione che significava per noi soprattutto qualità della classe amministrativa responsabilità di governo forse anche un messaggio meno brillante di quello che ha espresso Alice Line che ha parlato più ai giovani ha parlato più di movimentismo quindi capisco bisogna saperla interpretare quell'elezione bisogna saperla mettere a frutto anche per le regionali io credo che entrambi i messaggi e perciò la loro intelligenza adesso a governare insieme il partito da segretario e da presidente stia nel riuscire a fondere le due parti quella della qualità della serietà anche della storia che viene dal vecchio partito comunista più rappresentata da Stefano Bonaccini e poi quella di Alice Lane che parla un linguaggio nuovo per giovani valori mettiamola così che si devono integrare fortemente con quelli tradizionali lei parla molto di transazione ecologica ed è giusto di precariato forte di diritti sociali però per me viene sempre molto prima la classica forte identificazione del PD con il tema del lavoro con la necessità di crearlo che sia dignitoso per tutti in questa regione è la prima questione evidentemente e quindi oggi che il PD ha questa pluralità deve tenere insieme anche l'ala diciamo magari più di sinistra come viene definita con quella più moderata ho visto che c'era tanta paura il PD si spacca il PD questa volta avrà nuove frizioni non è successo niente come sempre un grande partito ha più anime anche molto spesso anche conflittuali ma deve saper ricomporre sintesi sui beni pubblici che rappresenta e non sintesi di accordi fracacicchi ecco in questo il messaggio di questo congresso io credo lo sapremo interpretare anche nelle prossime elezioni regionali lei vede bene Michela Fanelli alla guida della regione Molise io non sono mai stata un'ipocrita l'ho detto più volte è ovvio che fare il presidente della regione Molise è una responsabilità enorme ma è anche un'ambizione legittima per chi svolge politica chi ha fatto il sindaco la provincia la regione è normale anche avere ambizioni io credo sia anche sano in politica questo non vuol dire che debba essere un'operazione prevaricante né per me né per altri che giustamente ambiscono ma deve saper condurre a un'equilibrata sintesi generale lo definiranno i partiti lo sceglieranno i partiti soprattutto lo sceglieranno i molisani io ho messo a disposizione anche la direzione del PD qualsiasi scelta che riguarda le prospettive come ho detto sempre tu sei testimone per me un candidato presidente innanzitutto un candidato in lista cioè una persona che si candida per la propria lista a dare il proprio apporto sul proporzionale perché è quello la prima responsabilità di chi lavora sulle regionali chi dà questa disponibilità può accedere anche al ruolo di presidente qualora gli altri lo definiscano io sto molto lavorando per far vincere il PD e il centro-sinistra tutto il resto mi auguro che serva solo a portarci alla vittoria infatti dico a me dico a tutti basta primogeniture lo dico soprattutto a me non ho problemi mai di onestà di schiettezza nei ragionamenti oggi serve soprattutto vincere e quello poi servirà a governare bene se oggi noi mettiamo prima questo elemento io credo che la quadra si trovi allora aspettiamo ancora qualche altro giorno qualche altra settimana forse però gli inizi di maggio qua dal cilindro magico qualche nome doveva venire fuori sia da un lato che dall'altro assolutamente se dovesse essere Michela Fanelli la ospiteremo benvenuti anche se non dovesse essere sarà sempre la nostra gradita ospite è più bello ancora esattamente perché poi da qui al 30 giugno al 25 giugno ne avremo di cose da dire io ringrazio Michela Fanelli buona primavera a te ai nostri telespettatori per essere stata qui con noi a Contra la Rovescia e ringrazio voi che da casa ci avete seguito vi do l'appuntamento alla prossima settimana a sessa ora con Conto alla Rovescia buonasera e grazie per averci seguito grazie grazie a tutti grazie a tutti